Al Festival dei Pensieri all'auditorium della Nonati Anglo-American School incontriamo Roberto Ferrari, un formatore esperto di team building che naturalmente offre la sua teoria, la sua scienza per andare incontro a quelle che sono le esigenze in ambito aziendale dove si è sempre più alla ricerca dei aspetti motivazionali. Assolutamente sì, hai detto giusto, scienza, perché io mi occupo proprio di neuroscienze, meccanismi cognitivi, euristiche e bias, questi elementi che fanno parte del nostro DNA e ci fanno prendere delle decisioni spesso sbagliate proprio perché si rifanno a nostre esperienze di vita e stati d'animo che ci inducono a compiere scelte che diventano appunto i cosiddetti bias cognitivi, cioè errori di cognizione della nostra giornata quotidiana. Neuroscienze e arte del prestigio e anche musica, per chi mi occupa anche di musica, sono molto collegati tra di loro, quindi il fatto di cogliere quelle che sono le tecniche psicologiche degli illusionisti, dei mentalisti, dei prestigiatori, dei ventrilochi, tutto quello insomma che ruota intorno al mondo dell'arte del prestigio, è un grande spunto per parlare anche appunto di neuroscienze e di conseguenza anche di imprenditorialità perché la cosa principale è conoscere noi stessi come funziona il nostro cervello per poter scegliere un atteggiamento consapevole. Insomma è un po' l'arte del mutuare, ma quali sono gli aspetti più ricorrenti che sono da rimuovere per imparare a fare il gioco di squadra? Sicuramente l'aspetto principale dove, come si suol dire, casca l'asino in ogni azienda è il tema delle relazioni umane e soprattutto curare la vocina interiore, quindi la comunicazione con noi stessi in primis e poi quella con gli altri è proprio l'elemento chiave che ci consente di tirare fuori l'asso dalla manica per migliorare la produttività e tutto quello che poi è il benessere nell'affrontare una quotidianità che è molto di più il tempo che passiamo al lavoro rispetto a quello che passiamo in altri ambiti e quindi miglioriamo le relazioni, miglioriamo l'ambiente, miglioriamo la nostra motivazione e quindi di conseguenza anche la produttività aziendale. Il mondo del lavoro professionale si è confrontato purtroppo con la pandemia, ma c'è anche l'aspetto legato all'intelligenza artificiale, all'impatto che sta avendo sul mondo del lavoro. Ecco, come è cambiato il modo di lavorare sotto aspetto formativo del team building se è cambiato quando si va a intervenire in un contesto aziendale? Una pubblicità della Apple diceva è cambiata solo una cosa, tutto, il cambiamento è costante, fa parte di noi, l'importante appunto è affrontare il cambiamento in maniera consapevole, quindi conoscere noi stessi, conoscere come siamo, affidarci alle tecnologie, ma in maniera consapevole, perché va bene l'intelligenza artificiale, ma ancora di più in un'epoca di intelligenza artificiale è importante il valore umano e quindi agire sulle persone ci consente di utilizzare gli strumenti invece che esserne utilizzati un po' come accadeva nel film Terminator. Terminator Grazie.